Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Nel mirino del virus un'altra casa per anziani, Villa Sant'Agnese a Fertiglia, dove una paziente è stata trasferita ad urgenza del Santissima Annunziata di Sassari, risultata positiva al Covid-19. Nella residenza del quartiere algherese sono ospitati 35 anziani, si dovrà ora procedere all'indagine epidemiologica, non escluso che anche in questo caso possano intervenire medici e infermieri dell'esercito. A Sassari si registra purtroppo un'altra vittima da coronavirus. Lo stimatissimo medico Marco Spissu, chirurgolo politlinico di Sassari, ricoverato nel reparto malattie infettive. Per quanto riguarda Casa Serena, sempre a Sassari, il 29 marzo risultavano 67 casi positivi su 104 ospiti. I dati confortanti dei giorni scorsi, con la riduzione dei contagi nel salsarese, avevano fatto sperare nella stabilizzazione del virus. Ma come spiegato dal virologo Piero Capucinelli, a capo del pool scientifico in Sardegna, che abbiamo raggiunto telefonicamente, è prematuro lasciarsi andare a timide aperture. La situazione contagi deve essere monitorata giorno per giorno. Condivido, afferma Capucinelli, dunque le scelte della regione di non cedere neppure alle timide aperture, prima di avere dati consolidati nel tempo che dimostrino la stabilizzazione dei contagi. Nel salsarese per il virologo è stato determinante che i primi casi si siano sviluppati negli ospedali e nelle case di riposo, perché sono i luoghi più a rischio dove il virus si diffonde con maggior facilità. E il nuovo caso di fertilia è l'ennesima conferma, che non bisogna abbassare la guardia, ma continuare con la massima cautela. A Sassari si rimane a casa. Campus rinnova i divieti con l'ordinanza di ieri, l'ultima di una lunga serie. E come già accaduto, le aperture statali o regionali subiscono la stretta delle forche caudine di Palazzo Ducale. No quindi ai pur timidi permessi del governatore regionale Cristian Solinas in materia di corse e passeggiate. Se Solinas concede l'attività motoria nelle immediate vicinanze della propria abitazione, con rispetto delle distanze minime di sicurezza, il primo cittadino conferma il noto mantra e vietata qualsivoglia forma di attività fisica, sportiva e motoria in aree pubbliche. Le giustificazioni per uscire non cambiano. Spesa, salute, lavoro, tutto da autocertificare. E a riprovo ulteriore che si siano realmente compiuti degli acquisti, i cittadini dovranno, è scritto nell'ordinanza, conservare ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, lo scontrino fiscale. Rimane di controversa applicazione invece un altro articolo del provvedimento di martedì di Solinas, quello che obbliga l'uso di guanti e mascherine dentro gli esercizi commerciali. Su questo punto Campus si limita soltanto a raccomandarne l'utilizzo, un suggerimento che richiama la ragionevolezza, considerata l'ancora scarsa presenza di mascherine sul territorio. In più, aggiungiamo noi, a tutt'oggi, non risultano multe della polizia locale per la trasgressione di questa norma. Niente polemiche, lavoriamo assieme. Maurillo Murru, presidente del Consiglio Comunale, risponde in questo modo a chi nelle ultime settimane l'ha contestato, imputandogli una gestione poco democratica delle attività consigliari. Nessun rifiuto della dialettica coi consiglieri, sostiene Murru, che annuncia la convocazione per domani a Palazzo Ducale della seconda conferenza dei capigruppo. Non un gesto isolato. A breve, infatti, dichiarare il 5 Stelle, bisognerà votare alcune pratiche urgenti, tra cui una variazione di bilancio, e si renderà necessaria la convocazione della Commissione. Prove tecniche, quindi, di pseudonormalità in tempi straordinari, che dovrebbero, in un prossimo futuro, condurre a una nuova seduta del Consiglio Comunale, assente dal 10 marzo scorso. Sulla Commissione Covid, richiesta dal PD, Murru non chiude le porte, ma oppone solo l'iter procedurale che ne permetterà la creazione. Quanto ai nulla osta negati, come si è lamentato Mariolina Andria, il politico grillino ribadisce che non esistono permessi speciali per i consiglieri. Lui stesso non accampa titoli preferenziali. La mia sovraesposizione è causata dai continui attacchi che ricevo, dichiaro Murru, e ride se lo si definisce un socio di campus. Esiste un'intesa, chiarisce, ma ognuno mantiene e distingo del proprio ruolo. Sul famigerato e gigante uovo di Pasqua, donato a Monsignor Sabba dal primo cittadino, a nome di tutta l'amministrazione, Murru dichiara Campus non ha certo bisogno di autorizzazioni e conclude Qualcuno non ha colto il significato dell'emergenza. La priorità adesso è aiutare la cittadinanza. La nuova ordinanza regionale, firmata il 13 aprile scorso, a contrasto della diffusione del Covid-19 e che prevede misure più restrittive di quelle emanate dal Governo centrale, non ha mancato di suscitare qualche polemica e dissenso. In particolare, almeno sino al 26 aprile, non potranno riaprire i negozi di vestiti e articoli per l'infanzia e neppure le librerie, così come viene vietato l'accesso alle spiagge, oltre a già interdetti parchi e giardini pubblici. A tal proposito, si esprime invece favorevolmente l'assessore regionale alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu, replicando alle divergenti opinioni dei progressisti. Trovo assolutamente ingiuste e prive di fondamento le accuse lanciate dopo l'ultimo decreto firmato dal presidente Sulinas, sostiene Biancareddu, dopo aver sentito il parere dei componenti del Comitato Scientifico. Mi chiedo come si possa pensare in questo momento delicatissimo, dove la Sardegna sta cercando di fermare il contagio, di consentire l'apertura di quelle attività, comprese le librerie, che inevitabilmente comporterebbero dei rischi enormi per l'incolumità sia dei lavoratori che delle persone. I libri si possono comprare online o nelle edicole regolarmente aperte. Anche l'assessore regionale all'ambiente con delega alla protezione civile, Gianni Lampis, approva le disposizioni contenute nell'ultima ordinanza. È previsto nell'isola un aumento di temperature di circa 7-8 gradi rispetto alla media del periodo, con un picco lunedì 20 aprile in cui si raggiungeranno 28-29 gradi. Perciò bene ha fatto il presidente Sulinas a interdire l'accesso, oltre che nei parchi e nei giardini pubblici, anche nelle spiagge, commenta l'assessore Lampis. Per i sardi il mare rappresenta un importante elemento della vita quotidiana, nonché un consueto luogo di socialità e relax, perciò capisco che rinunciarvi sarà un ulteriore sacrificio. Per superare l'attuale emergenza sanitaria serve però la collaborazione di tutti e il rigoroso rispetto delle disposizioni. Il nuovo appalto del servizio di venti roterattori è un'attuale emergenza. l'attuale emergenza sanitaria domiciliare della TS non assicura gli standard di assistenza garantiti precedentemente. Lo afferma Antonio Più in un'interrogazione presentata al gruppo di progressisti in Consiglio regionale e nella quale si chiede anche la nomina di una commissione per determinare come si è arrivati a questa situazione, che in tempi di Covid-19 mette ancora più a rischio chi soffre di patologie respiratorie. Al centro del documento c'è una forma di assistenza prescritta ai pazienti che necessitano di un supporto meccanico. Si tratta di un dispositivo che sostituisce totalmente o parzialmente i muscoli respiratori quando non sono in grado di funzionare in maniera corretta. Prima dell'emergenza era previsto un servizio di noleggio delle diverse tipologie prescritte dai medici specialisti con consegna del fornitore direttamente al domicilio del paziente. Qui gli apparecchi venivano installati ma soprattutto collaudati. Ora i macchinari sono acquistati direttamente dalla ASD e il collaudo effettuato dal medico prescrittore in ospedale senza alcuna valutazione di idoneità del locale dove verrà utilizzato. Poi è il paziente che lo installa autonomamente con rischio di effettuare errori o di esporsi recandosi in ospedale al rischio di contagio da coronavirus. L'ASL sassarese ha inspiegabilmente abbandonato un modello utilizzato in tutta Italia, dichiara Antonio Più, scegliendo un protocollo che non appare idoneo a garantire la sicurezza della salute dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria. Per questo motivo per i progressisti si rende necessario che i dispositivi meccanici e il materiale di consumo venga fornito a domicilio da detti provvisti di idonei e dispositivi di sicurezza garantendo la funzionalità dei macchinari e adottando tutte le misure di contenimento e restrizione per ridurre il contagio da Covid-19. Aiuti straordinari agli studenti fuori sede. Questa è la richiesta presentata ieri con una mozione dal gruppo dei progressisti al presidente della regione Sardegna Cristian Solinas e all'assessore alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Un'iniziativa promossa da Gianfranco Satta che ha come obiettivo principale quello di provvedere tramite sussidi straordinari al sostentamento degli studenti sardi fuori sede che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ora si trovano in difficoltà economiche. L'esponente regionale dei progressisti ha dichiarato che gli studenti universitari rappresentano un capitale umano di fondamentale importanza per il futuro dell'isola e la tutela dei percorsi di studio una priorità per la regione Sardegna. Ci aspettiamo che tali provvedimenti vengano assunti attraverso un bando pubblico in tempi assolutamente rapidi andando non oltre il 24 aprile per dare risposte concrete a chi oggi rischia di vedere precluso o limitato il proprio futuro. Anche i consiglieri del Partito Democratico hanno presentato una richiesta per far sì che la regione aiuti gli universitari facendosi carico dalla seconda rata delle borse di studio ERSU per tutti gli studenti, modificando il bando Fitto Casa con una revisione sull'accesso al bando ed un rimborso sulla mensa e sugli affitti, un aiuto indispensabile per tutelare gli studenti sardi e le loro famiglie messe a dura prova a causa dell'emergenza coronavirus. Grazie a tutti!